Ma è realistico dire di separare Hamas dal popolo palestinese quando Hamas comunque ha vinto delle elezioni, quando ha portato delle cose palestinesi, per questo c'è a favore dei palestinesi. Come si fa ad andare in uno Stato e separare un'organizzazione politico-terroristica, aggiungo, dalla popolazione normale? È realistico? Intanto è un filino paternalista, è proprio una classica posizione occidentale. La ricostruzione di Travaglio, io sono totalmente d'accordo. Ricorderei anche che all'inizio si disse in una logica coloniale per un popolo senza terra, una terra senza popolo, curandosi poco di quello che c'era lì. C'è un peccato originale proprio diciamo che il fatto che nasce dopo la Shoah, ma è in una scia ancora coloniale. Questa idea che andiamo noi a separare i palestinesi da Hamas ora è molto ingenua. Ma sono d'accordissimo sulla diplomazia, capisco cosa dice Elie Schlein. Il problema è che tu separi i palestinesi di Hamas se fai giustizia per i palestinesi, se sei capace di criticare Israele nelle sue politiche criminali e non di dire che Israele è la nostra frontiera e dunque li difendiamo sempre e comunque. Cioè se l'Europa, se non gli Stati Uniti, ma almeno l'Unione Europea riacquista un profilo politico equidistante almeno sul piano dei principi. E allora diciamo dando ai palestinesi giustizia, acqua, energia elettrica, una dignità di vita e in prospettiva uno Stato, anche come dire contribuendo a trattative che possano portare a questo, allora sì che la radicalizzazione islamica dei palestinesi, che erano i meno radicalizzati di tutto l'Islam, si deve esattamente all'Occidente Israele. Siamo riusciti nel capolavoro di averli buttati nelle braccia. Cioè poi dell'Iran che è lontanissimo da un punto di vista confessionale, culturale. Cioè diciamo l'abbiamo fatto noi questo capolavoro per parafrasare il famoso dialogo fra Picasso e i nazisti a proposito di Bernica. Ora l'idea che noi dobbiamo convincerli che Amass sono cattivi e non fanno i loro interessi, ma li dobbiamo convincerli con i fatti, cioè non con le dichiarazioni. Qui inizia tutto quello che non abbiamo fatto finora, quindi come dire capisco cosa vuol dire, però insomma rischia di essere un filino ingenuo detto così. Ma a questo punto è realistico anche quello che dice Giuseppe Conte, perché questa era l'ambizione dall'inizio, di creare due stati con due territori che convivessero pacificamente. Ma adesso a questo punto che le truppe dell'esercito israeliano sono entrate a Gaza, che c'è stato quell'attacco dei giorni scorsi atroce da parte di Hamas, oggi è realistico parlare così? Sai, io ho appena finito per il giornale che esce domani mattina di scrivere la prima puntata di una storia di Israele e dei palestinesi, perché purtroppo ogni tanto bisogna fare dei promemori, perché nessuno si ricorda niente. Se nel 1948, dopo la prima risoluzione dell'ONU che stabiliva due stati, due popoli, gli stati arabi avessero fatto quello che ha fatto Israele, cioè avessero lasciato nascere lo stato palestinese, noi ci saremmo risparmiati, adesso è impossibile calcolare quanti morti tra gli israeliani, tra i palestinesi, tra i soldati arabi che hanno fatto 4, 5, 6 guerre, comprese quelle del Libano, e tutti i morti in attentati palestinesi in giro per il mondo. Quindi figuriamoci che cosa ci saremmo risparmiati, gli errori storici si pagano. Il problema è che, come ricordavo prima a proposito di Sharon, non è che la soluzione dei due stati è una soluzione che vogliono i buonisti o che vogliono gli irenisti o quelli che hanno la bandiera della pace, le anime belle. È l'unica soluzione per evitare il bagno di sangue finale. Io mi ricordo quando si diceva, ma in Sudafrica ci sarà un bagno di sangue perché certamente dopo secoli di apartheid, come faranno a convivere i bianchi con i neri? I neri sono di più e quindi i bianchi dovranno scappare oppure verranno ammazzati tutti. Non è stato così, perché anche lì due leader che erano tutt'altro che delle mammolette, Mandela da giovane faceva terrorista, Leclerc era uno sporco razzista, epigono dei boeri sostenitori dell'apartheid. A un certo punto hanno preso atto della situazione e hanno creato le condizioni per cui oggi in Sudafrica non ci sia stato il bagno di sangue e poi ci sono mille problemi, come è ovvio.